Spettacolo di danza e musica al Museo Archeologico per il Maggio dei Monumenti. Antonella Fracchiola. Tarantella Cruda, danza popolare contemporanea per piedi e plettri. Lo spettacolo di danza e musica proposto al Museo Archeologico di Napoli nell'ambito del Maggio dei Monumenti. I furori della pizzica e che di Tamurriate la voglia di seguire la tradizione ma anche di contaminarla e tradirla. Nelle coreografie originali e minimaliste dello spettacolo. Di e con Tuglia Conte, in scena con Gianluca Campanino e Milena Concia, lo spettacolo è stato presentato in antiprima ai visitatori del Museo Archeologico.